Grande partecipazione all'Assemblea dei Sindaci di sabato nei locali dell'ex centrale elettrica per l'esame e la discussione della proposta di legge di iniziativa popolare sui limiti all'espropriazione della prima abitazione e degli immobili strumentali all'esercizio delle imprese e sulla riforma del sistema di riscossione redatta dall'assessore alla trasparenza Piero Gurrieri e fatta propria dall'amministrazione comunale Ipparina. Una presenza massiccia che mostra la bontà dell'iniziativa, infatti all'incontro erano presenti diversi sindaci e amministratori di comuni siciliani, in particolare della provincia di Ragusa, Caltanissetta, Catania ed Agrigento, mentre altri sindaci, quelli di Napoli, Bologna, Bolzano e Bergamo, hanno inviato delle email manifestando apprezzamento per l'iniziativa. Erano inoltre presenti alla Sisi, oltre ad alcuni rappresentanti politici e sindacali della città, il senatore Giuseppe Lumia, che ha ribadito di aver fatto propria con il deposito negli uffici del Senato la proposta di legge e ha annunciato l'intenzione di concertare con parlamentari di altri gruppi la sottoscrizione congiunta della stessa, ma anche rappresentanti regionale e nazionale di organizzazioni professionali, quali CNA e Conf Cooperative, che si sono detti pronti, al pari delle ACL, a garantire sostegno al progetto. Dopo un'articolata discussione, l'Assemblea si è conclusa con la decisione di proseguire rapidamente alla stesura dell'articolo definitivo da depositare entro il mese di giugno presso la Corte di Cassazione, in modo da aprire la determinante fase della raccolta delle sottoscrizioni. In particolare, l'amministrazione comunale di Vittoria trasmetterebbe immediatamente il deliberato della seduta a tutti i comuni italiani, invitandoli a presentare proposte integrative o modificative e a dichiarare la propria disponibilità a partecipare a un tavolo tecnico politico intercomunale, nel quale tutte le proposte saranno rapidamente valutate con la conseguente predisposizione dell'articolo definitivo. soddisfatto per l'esito dell'Assemblea sia l'assessore alla trasparenza Piero Gurrieri che il primo cittadino Giuseppe Nicosia.